Scusa, sì? Scopami, adesso. Scoparti, sono in riunione. Quello di Sema e Lucy è un matrimonio perfetto. Scusa, ma lo dovevo fare adesso. È sempre un piacere, ma è un dovere. Eppure c'è qualcosa che manca. Brigati! E dopo aver tentato? Ottimo lavoro, stallone. E tentato? Buon Natale! E tentato, è giunto il momento di affrontare la situazione. Dobbiamo andare da un dottore. Questo putter non ci serve per oggi. Questo non ci può servire dopo. E questo è essenziale. Lucy ha bisogno di una distrazione. Ti trovo bellissima oggi, Lucy. Vieni a letto con me. E Sam vi un'ispirazione. Dovrei scrivere una commedia che parli di una coppia steppe. Sam, no, ti prego. Nigel mi ha mandato il tuo copione, Sam. Magari sarà una cacata. Ma una cacata di talento. Insieme stanno cercando una risposta. Ma se alla fine Sam ti mette in cinta, mi porto il pupo in ufficio. In questo caso saremo obbligati a mettere l'asilo nido. Tu stai zitta, brutta capra. Samuel Bell, analisi spermatica. 41% si muovono in direzione errata. Stavano in un barattolo di plastica. Lo sai che con il motorino risparmio 17 minuti al giorno? Certo lo sfondo, poverino. In un film tratto dalla nuova commedia di Ben Elton. Che fine ha fatto? Beh, penso che si farà vivo tra un minuto. Maybe Baby.